Che infatti? 1. Perché quando che vado all'estero e dico di venire dall'Italia la gente si mette a narire? 2. Come si chiamano quelle che tu le paghi, loro dà a danno e poi te dicono pure che sei stato fantastico? 3. Ma che davvero? 4. Con tutti i sordi che c'è, ma non potevi scegliere un avvocato meno rincoglionito dei chetini? 5. Perché tu moglie e tu fia se ne accorgono mo' che te piace fare il galletto sopra la monnezza? 6. Non pensi che un po' d'acoatti portasse i capi d'estato in vacanza dentro al villone tuo? 7. L'Italia è il paese con l'80% di beni artistichi del mondo Ma davvero te pensi che è merito tuo? 8. Te che te ne teni le barzellette, la sai quella dei ai di e del nonno? 9. Ma lo sai che in Italia c'è tantissima gente che te pensa intensamente? 10. Berlusco, acqua e olio, tutto a posto? 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 Grazie.